Gruppo Italia SRL, Via Andrea Costa 111, Sant'Arcangelo di Romagna Siamo con mister Marco Bucci del Vismisano al termine della partita contro il Torconca qui a Cattolica una vittoria per 3-1, una partita decisa, avete giocato molto bene su ogni pallone Ma sapevamo di incontrare un avversario forte, un avversario che probabilmente se la giocherà fino alle fine con quelle 5 davanti, siamo venuti qui a fare la nostra partita, una partita attenta e non possesso e c'è andata bene, abbiamo secondo me meritato di vincere, la squadra per me ha dato il massimo ogni giocatore ha fatto quello che doveva fare, sapevamo che era una partita da giocare nei 95 minuti in più loro venivano da un impegno di Coppa mercoledì sera, abbiamo fatto bene, secondo me abbiamo preparato bene la partita i ragazzi l'hanno interpretata al meglio Quindi soddisfatto a pieno della prestazione anche di ogni suo ragazzo quest'oggi? Sì, sono soddisfatto in pieno, non per il gol alla fine, siamo stati poco attenti però va bene, hanno dato il massimo, hanno sudato la maglia e forse anche qualcosa in più e quando un ragazzo fa questo per me è apposta Perfetto Marquez, grazie da te, buona serata